ciao sono mattia sai il maestro mi ha spiegato che non è che tutti ci possono sentire e che io non posso insegnare a mamma mia a sentire come senti tu mi ha spiegato anche che io ti ho messo in difficoltà a te scusa io non volevo però mi puoi spiegare che vuol dire che ti ho messo in difficoltà non ho capito bene il maestro mi ha anche spiegato che papà dice quella parola perché arrabbiato come hai detto tu ma non pensa che è vero che gesù è bastardo io capisco un po meglio quando le cose me le spieghi tu perché il maestro non è che mi spiega proprio tutto perché spesso mi dice che capirò quando sarà il momento io ho capito che non è il momento che io sto a scuola perché sono troppo piccolo e poi non ho lo zainetto però mica glielo ho chiesto io di andare a scuola qui tutti vanno a scuola anche i maestri mi sa che è un'usanza la scuola il maestro mi ha anche detto che non ti devo fare troppe domande io però te ne faccio una per volta così non ti difficoltisco mi puoi spiegare perché se non sono ancora pronto devo andare a scuola lo stesso ti voglio tanto bene perché hai tanti colori belli quando mi avvicino e rispondi a tante domande spero che il maestro non si arrabbia che sono tornato da te e che mi fai tornare ancora ciao grazie a tutti